Nel nostro angolo della cultura di oggi vi voglio consigliare un romanzo inglese della seconda metà del Settecento che per qualche motivo a me sconosciuto non è spesso annoverato tra i grandi classici che tutti dovrebbero leggere. Eppure io ne sono perdutamente innamorato e mi ci sono divertito a bestia. Si tratta di La vita e le opinioni di Tristram Shandy Gentiluomo di Lawrence Stern. Che cos'è questo libro e perché tutti dovrebbero leggerlo? Intanto Lawrence Stern, un reverendo, quindi un prete, scrive questo libro in nove volumi tra il 1760 e il 1767, quindi un lavoro di otto anni, più o meno un volume l'anno. E si tratta di uno delle vette assolute del sarcasmo, dell'umorismo, dello humor appunto British, tipicamente inglese, che tanto amiamo, almeno io amo tantissimo. Quindi se voi apprezzate l'umorismo inglese, il sarcasmo e quel tipo di ironia particolare che viene proprio dalla Gran Bretagna, non potete perdervi il Tristram Shandy. Allora, di che cosa si tratta? È una autobiografia, o almeno così sembra, dello stesso Tristram, questo personaggio dalla vita piuttosto sfigata, che racconta appunto la storia della sua vita. Il problema è che Tristram ha una caratteristica fondamentale, che è quella da cui si originareranno un po' tutte le pazzie assolute di questo libro. Ovvero, non è in grado di spiegare, di raccontare assolutamente niente senza fare delle digressioni enormi, infinite, senza senso, su qualsiasi cosa, dalla forma del naso delle persone alla filosofia più alta. Quindi la cosa interessante è che, sebbene si tratti di un'autobiografia, lo stesso Tristram nasce nel terzo volume. Quindi i primi due volumi di questo romanzo non c'entrano assolutamente niente e sono più che altro la storia della famiglia di Tristram. Ma in realtà il Tristram Shandy è la storia di un cast di personaggi indimenticabile più che del singolo personaggio, perché per la maggior parte del libro Tristram è poco più che un bambino e poi diventerà adulto o comunque avrà una storia importante soltanto per un piccolo pezzo alla fine del libro stesso. Quindi c'è poco in realtà di autobiografico e molto della voglia di raccontare di un cast di personaggi completamente tocchi ognuno a modo suo e appunto scatenare l'ironia delle persone. Prima di raccontarvi di che cosa parla esattamente, quali sono i personaggi principali, vi voglio dire che Lorenz Stern era un pazzo completo. Scrive questo libro a 46 anni quando ancora non aveva scritto praticamente niente, era un neofita del romanzo e comunque della letteratura e pesca a piene mani dalla cultura del suo tempo e anche passata dai suoi autori preferiti per creare una specie di puzzle, un libro arlecchino con dentro veramente qualsiasi cosa gli interessasse o avesse voglia di scrivere, comprese pagine disegnate che non c'entrano assolutamente niente con la storia oppure pezzi addirittura copiati incollati da altri romanzi, quindi una cosa veramente folle che all'epoca gli costò anche la riprovazione di gran parte dei benpensanti dell'epoca, possiamo dire così, e in realtà però un successo di pubblico immediato e travolgente. I personaggi principali sono quelli della famiglia per l'appunto di Tristram, suo padre, sua madre, lo zio Tobia che è il mio personaggio preferito in assoluto, il servo Trim, il dottore e tutta una serie di cast che ruotano intorno alla casa e quindi alla vita domestica di questa famiglia. I due personaggi che sono più esilaranti sono appunto il padre e lo zio Tobia, perché? Perché si scontrano continuamente, il padre di Tristram è un uomo razionale, colto a modo suo, ma molto anche molto intellettuale, molto preciso, mentre lo zio Tobia è un cacciarone, un sempliciotto che veramente non potete non amare, una brava persona che però ha una fissa, ovvero si interessa nella sua vita praticamente solo di battaglie storiche, gli interessa soltanto quello, parla soltanto di quello, pensa soltanto a quello e usa tutto il suo tempo libero per prima ricercare battaglie storiche e poi costringere il povero servo Trim a fare, a costruire delle ricostruzioni accurate in giardino delle varie aree di battaglia con tanto di cannoni fumanti, strincee scavate da questo povero servo che si passa le giornate a, dietro allo zio, a costruire queste folli ricostruzioni. Questi personaggi sono veramente, veramente simpaticissimi e si perdono nei discorsi più assurdi parlando di cose importanti in una serie di dialoghi, di colpi di scena asimmetrici in cui succede veramente qualunque cosa. Io vi posso assicurare una cosa, che a prescindere da quanto vi piaccia lo humor inglese, a prescindere anche da quanto possiate godere di questo libro che io ho trovato fantastico, ma altri potrebbero anche trovare un po' difficile da approcciare, una cosa è certa, non avete letto mai nulla di simile al Tristram Shandy Gentiluomo. È qualche cosa di incredibile, di unico, non c'è un paragone, perché Lorenz Stern scrive veramente un'opera completamente assurda, qualche cosa di mai visto prima e che mai si ripeterà per il momento perlomeno nella storia della letteratura. Quindi se volete conoscere un pezzo un po' anticonformista, un po' fuori dal normale, nello stream diciamo della letteratura inglese, il Tristram Shandy non vi può mancare. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io sono Alessandro De Concini e tutti i giorni sulla mia pagina Facebook, su YouTube, in podcast e su tutti i canali social vi parlo di cultura, ragionamento, apprendimento, cognizione e noi ci vediamo in un prossimo video.